ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario caber govet 3 industria italiana integratori spa alivisto company ultimo aggiornamento 9 febbraio 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione principio attivo indicazioni posologia avvertenze tempi di sospensione a cosa serve caber govet è un medicinale veterinario a base del principio attivo cabergolina appartenente alla categoria degli inibitori della prolattina e nello specifico inibitori della prolattina è commercializzato in italia dall'azienda 3 industria italiana integratori spa alivisto company caber govet può essere prescritto con ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare vet agro trading sp zoul concessionario 3 industria italiana integratori spa alivisto company ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile principio attivo cabergolina gruppo terapeutico inibitori della prolattina forma farmaceutica soluzione confezioni caber govet soluzione orale 1 flacone da 15 ml e 1 siringa orale da 3 ml caber govet soluzione orale 1 flacone da 7 ml e 1 siringa orale da 3 ml principio attivo ogni ml contiene cabergolina 50 mcg indicazioni trattamento della falsa gravidanza nelle caglie soppressione della lattazione nella cagna e nella gatta posologia il prodotto può essere somministrato per via orale direttamente in bocca o mischiato all'alimento dosaggio 0,1 ml barra kg pv pari a 5 mcg barra kg pv una volta al giorno per 4 6 giorni in funzione della gravità del quadro clinico qualora i segni non si risolvano dopo un singolo ciclo di trattamento o si ripresentino dopo la fine del trattamento il ciclo di trattamento può essere ripetuto il peso dell'animale trattato deve essere determinato accuratamente prima della somministrazione avvertenze ulteriori trattamenti di supporto dovrebbero comportare la limitazione dell'assunzione di acqua e carboidrati e un aumento dell'esercizio fisico precauzioni speciali per l'impiego negli animali il medicinale veterinario deve essere somministrato con cautela ad animali con funzionalità epatica compromessa tempi di sospensione non pertinente fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato grazie grazie grazie